Gentili Pubblico e Storia 2012, ottavo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda API. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Storia e si svolge sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, del Comune di Gurizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gurizia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e dell'Associazione Italiana Editori, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche e di sponsor privati. Benvenuti all'incontro dal titolo Il passato davanti a noi, cospirazione e violenza come interpretazione del mondo passato, con il sostegno della Banca Popolare Friuladria e in collaborazione con Pordenonelegge.it. Intervengono Tullio Voledo, Alberto Garlini, Coordina Pietro Spirito, Buonasera a tutti. Io prima di iniziare si è parlato, il titolo di questo incontro è violenza e cospirazione come interpretazione del passato, io direi che potrebbe prendere anche un'altra deriva la chiacchierata di questa sera, il titolo forse potrebbe trasformarsi più giustamente in cospirazione e violenza come interpretazione del presente. A proposito di questo e a proposito di quello che è successo stamattina a Brindisi, voi lo sapete, da domani è stato deciso, la direzione di Estoria ha deciso che prima di ogni incontro venca mantenuto un minuto di silenzio. Noi vorremmo cominciare già adesso, mi sembra doveroso ricordare con un minuto di silenzio la ragazza, Melissa, questa ragazza che è vittima di, non si sa ancora bene chi è stato, chiunque sia stato, userei dei termini non appropriati in questa sede e quindi io vi chiedo soltanto un minuto di silenzio per ricordare quello che è successo. Grazie. 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 Allora, il tema è un po' questo, insomma, un po' questo della cospirazione e della violenza, di come la cospirazione, la violenza, le trame possono essere le coordinate di un futuro che noi non vorremmo, che vorremmo che non ci fosse. Ed è un po' di questo che parlano i due libri, il libro di Alberto Garlini, La legge dell'odio e il libro di Tuglia Voledo, Le radici del cielo, due libri molto diversi fra di loro, completamente diversi. Tra l'altro apro una piccolissima parentesi, se non sbaglio, forse sbaglio, ma credo che questo sia se non l'unico, forse uno dei pochi incontri di storia dove si parla di libri di narrativa, dove si parla di letteratura, questi non sono saggi storici, sono racconti, sono romanzi. C'è una ragione, c'è un motivo, dopo ci torniamo su, ne parliamo, ne parlava anche Augas stamattina ricordando come anche lui che non si dichiara uno storico è molto forse più interessato a come la letteratura riesca a fare luce laddove la storiografia non può, laddove la scienza del passato non riesce ad arrivare, riesce ad arrivare invece la letteratura, riescono ad arrivare gli scrittori e di questo parleremo appunto con i nostri ospiti. Dunque la legge dell'odio di Alberto Garlini è un romanzo che potremmo definire storico, la storia di Vincenzo Guerra, un terrorista nero che attraversa un po' tutta la parabola, tutta la vicenda degli anni di piombo in Italia, le vicende del terrorismo viste dalla parte, quindi viste dalla parte, dall'altra parte diciamo così, dalla parte delle trame nere, dalla parte dei neofascisti. In questo senso un romanzo anche molto coraggioso, un romanzo che nessuno aveva fino a questo momento aveva tentato di affrontare sotto il profilo narrativo questo capitolo della storia italiana, un capitolo oscuro, buio, pieno, lo sapete benissimo, pieno di risposte irrisolte e invece Alberto riesce con questo romanzo a creare un grande affresco di questa terribile stagione entrando nei panni di questo ragazzo Stefano Guerra e di tutta la sua vicenda, da quando uccide la prima persona fino a quando compie tutta una serie di attentati fino a quando viene ucciso lui. Ad ucciderlo sarà proprio uno dei suoi camerati, uno dei suoi compagni e compagni di lotta, Franco Ravel, il racconto è organizzato in questo modo, cioè appunto Franco Ravel viene processato per omicidio e davanti al giudice lui rievoca la parabola di questo terrorista. Quindi un libro che parla della nostra storia lo fa in forma narrativa, quindi alcune cose, alcuni nomi sono cambiati, naturalmente ci sono delle parti di invenzione ma sostanzialmente ripercorre le tappe di questa terribile stagione. Il romanzo invece di Tullio Voledo è un romanzo di fantascienza, di fantasy, di fantascienza, è un romanzo che apparentemente, solo apparentemente, tratta di tutto altro perché racconta la storia di, è ambientato, innanzitutto fa parte di un progetto narrativo, di un vasto progetto narrativo avviato nel 2002 con il romanzo Metro 2033 del russo Dimitri Glukowski che inventa, crea questo grande romanzo ambientato in un mondo post-atomico. Questo romanzo poi diventa anche un gioco, diventa un gioco di ruolo e sulla scia di questo romanzo altri narratori in varie parti del mondo raccontano il loro paese, le loro città e il loro paese viste in un mondo post-atomico, post-apocalittico. È la storia di un seminarista, padre John Daniels, che in un Vaticano ormai ridotto a macerie, vivono nelle catacombe, in un Vaticano alle prese con una furibonda lotta interna politica per la successione, parte per andare a Venezia con il compito di trovare il tesoro della Basilica di San Marco e riportarlo a Roma, in realtà ha una missione segreta da compiere che è quella di cercare di portare invece il patriarca di Venezia a Roma per eleggere il nuovo papa. Quindi una classica trama così un po' a metà tra la spy story, la fantascienza, il giallo e tutto questo in un'Italia, questo seminarista quindi parte, attraversa l'Italia e c'è la descrizione di questa Italia distrutta ormai completamente ridotta a un cumulo di macerie in un futuro post-atomico. Tullio io lo considero uno degli scrittori più potentemente visionari che abbiamo e autenticamente visionari che abbiamo in Italia, quindi proprio un romanzo che prende moltissimo. Quindi dicevo, due libri apparentemente molto diversi che però sono comunque uniti da un filo comune, cioè l'idea distopica del mondo. Questo è un aggettivo che mi piace molto, l'ho scoperto di recente, non volevo dirlo. Distopico significa è il contrario di utopico, cioè come noi non vorremmo che fosse. Quindi due libri che parlano di un mondo che noi non vorremmo che fosse così, che prefigurano un futuro o un'idea di futuro che non è quella che vorremmo. E tutti e due parlano appunto di cospirazione e di violenza. Di cospirazione e violenza e indicano nella cospirazione e violenza proprio gli assi cartesiani di una profezia. Se questo è il passato, se questo è stato il passato, allora qual è il futuro che ci dobbiamo aspettare? Io inizierei subito, inizierei da Tullio Voledo con la prima domanda, la più semplice e le altre saranno più difficili. Non è la prima volta che tu affronti una narrazione dei toni post-apocaliptici. Ricordiamo la ragazza del Vaionta, anche questa ambientata in una regione tra l'altro la nostra, vista così in una sorta di futuro post-atomico o post-apocalisse. Perché scegli questi temi? Che cos'è che ti affascina di questi temi? Qual è in genere quando scrivere significa, almeno secondo me penso che sarete d'accordo, scrivere significa sempre porsi delle domande, porsi delle domande sulla nostra realtà, su quello che siamo, su quello che siamo adesso, non solo su quello che siamo stati. Quindi immagino che anche tu nel prefigurare queste vicende ti poni delle domande, ti poni degli interrogativi. Perché scegli questi temi per dare risposta a questi interrogativi? Perché sono abbastanza inorridito dal mondo come adesso. Quando parlavi di un mondo ridotto in mazzerie e sull'orlo dell'apocalisse pensavo ti riferissi alla lettura di qualche quotidiano, perché direi che ci siamo, insomma. È un mondo in cui ho deciso di far nascere due figli, un figlio e una figlia, e quindi sono preoccupato per loro. È un mondo che non mi piace perché diamo per scontate, diamo per normali, delle cose che non sono assolutamente normali. Ad esempio, avevo riflettuto una volta sul fatto che tutto quello che indossavo in quel momento era probabilmente frutto di una economia, erano prodotti di marchi internazionali, ma prodotti nel terzo mondo, quindi probabilmente da schiavi di fatto. E questo mi ha colpito, nel senso che non si può accettare come normale una cosa del genere, non si può accettare come normale il fatto che... Un mio libro, che era Tre sono le cose misteriose, è nato da un'estate in cui, mentre io e la mia famiglia ce ne stavamo a Lignano, vedevamo i bombardieri che andavano a bombardare la Serbia. E anche questo non è normale. E credo che sia un mondo completamente uscito dai binari. E far vedere quale potrebbe essere, come si può dire, accentuare un po' certi fenomeni o portare il lettore a capire quanto anormale sia quello che lui ritiene normale, è un po', lo considero un po' una mia missione. L'ho sempre fatto. Attualmente devo dire che ho dovuto cercare un tema catastrofico così remoto, quindi a mio interno nel 2033, perché tutte le catastrofi più vicine che potevo descrivere mi venivano sputtanate dalla realtà. Io avevo cominciato a scrivere un bel romanzo adesso su un'Italia del Nord dominata dalla Lega, dominata dalla Lega da dieci anni, diciamo. Ed era carino, mi sta venendo parecchio bene, agghiacciante, un misto di... Cioè, gli stupi del potere, la violenza, queste cose, ma anche una certa dimensione provinciale era... Avevo immaginato un'Italia del Nord ridotta alle condizioni della provincia italiana degli anni 50, quindi ancora dove si va a prendere giornale le pastine, c'è il droghiere, c'è il giornalaio, un sud potentissimo grazie all'alleanza tra i cinesi e la mafia e un centro governato da un governo tecnico, cioè mi immaginavo i bocconiani al governo. Poi mi arriva Mario Monti e Corrado Passero al governo, il figlio di Bossi che va a comprarsi le lauree a Tirana. Cioè, voglio dire, i giornali sono la cosa più fantastica che... Cioè, nessuno scrittore può star dietro a... Se neanche uno scrittore di fantascienza riesce più a... Ah, certo. E allora, visto che c'era Dimitri, io ho incontrato Glukowski due anni fa a Torino, perché mio figlio giocava al videogame... No, faccio l'outing, giocavo anch'io a questo videogame tratto dal suo primo libro e mio figlio era esaltato dall'idea di conoscerlo. In effetti è una persona anche piuttosto interessante, non è un cretino, cioè uno che ha una sua visione del mondo, è un manager di se stesso formidabile, è messo su questa impresa che non è una cosa da scherzare. Beh, ricordiamola com'è, lui è partito dal romanzo per fare un... Beh, lui ha avuto un romanzo, e già questo me lo rendeva simpatico, che è stato rifiutato da 13 editori russi. Allora cosa ha fatto? L'ha messo online, gratis, ed è stato scaricato da 500.000 lettori. Poi l'ha pubblicato, ha trovato l'editore, chissà come mai, e ha venduto 800.000 copie. Da lì è nata l'idea di creare questo universo che si espande, cioè ha invitato una ventina ormai di scrittori russi. E io sono il primo italiano, ce ne sono altri pronti a scrivere, poi c'è un inglese, un cubano, un americano, un australiano che stanno lavorando per completarlo, e ognuno di noi ha aggiunto un tassello a questo mondo. Poi ci sono musicisti, c'è una bella colonna sonora del trailer che abbiamo fatto per questo libro, che è notevole. Ci sono programmatori di videogame, illustratori, ed è quindi una sinergia che è divertente. Io andrò alla fine della settimana prossima a Mosca e mi dicevano che ho già venduto 40.000 copie. E leggendo anche i commenti dei lettori, per quello che può consentire una traduzione automatica da internet, devo dire che credo di aver centrato un po', ho aggiunto un po' di una dimensione italiana a questo fresco morale. Ma secondo te i lettori accolgono così bene questo perché hanno un po' il tuo stesso problema, anche loro non riescono a stare dietro e quindi trovano una catarsi o una risposta anche a delle domande che ha delle inquietudini che li aggiano. Perché poi questa narrativa, questo tuo mondo, tu lo costruisci a partire da una tua inquietudine. Devo dire che non avevo mai realizzato come i russi e in generale i cittadini dell'ex Unione Sovietica abbiano vissuto, qui mi rilascio al tema della storia, un trauma, un bombardamento culturale quando ho crollato, come diceva Dimitri, mi sono addormentato una notte che era cittadino di una superpotenza e mi sono svegliato il mattino dopo a un cittadino di un paese del terzo mondo e senza spostarmi dal mio letto. E deve essere scioccante, nel senso che tutti i mali della... Io sono affascinato dall'idea di mettere piede in uno stato di polizia dove devo farmi fare il visto una settimana prima e dove ogni angolo della città in cui starò è stato... in ogni angolo c'è stata una forza comune, un'esecuzione capitale, eccetera. Cioè è come andare in un paese, una distopia, secondo me. Chi ci vive probabilmente non lo realizza, quindi non è detto che prima o poi non scrivo un racconto in cui descrivo quali sono le mie reazioni a un mondo apparentemente pacificato, apparentemente civile. Loro tutti siamo felici perché i russi sono entrati nel mercato mondiale, sono diventati capitalisti, eccetera. Io, felice, non lo sono per niente. Loro neanche... non lo sono tantissimo. È un paese che è di fatto una distopia, dove ci sono enormi ricchezze e poi c'è stato quel furto colossale di risorse economiche che ha creato gli oligarchi da un lato e le masse di proletari... Insomma, sembra già un mondo un post-apocalittico, già di per sé, insomma. Come il nostro, eh? Beh, basta arrivare qua. Non so se... Chi di voi è venuto? I fortunati... Cioè, se vivete a Gorizia stateci qua, non uscite, perché c'è quel raccordo terrificante che è una specie di... È stato progettato dalla Gottlieb, quella che fabbricava i flipper, una roba... Cioè, mi sono sentito una pallina in mezzo a queste... Ecco, cioè... Ho visto l'Ikea, quella specie di tempio di Moloch che sta massacrando i mobiliieri di Prata e di Bruniera. Cioè, apparentemente li fa vivere una tale massacra. È un mondo che non mi piace per niente, quindi mi prendo la libertà di esasperare certi difetti, certe cose che vedo e di, chiaramente, di giocare un po' d'anticipo, insomma. Questo libro è nato in realtà anche per la paura della bomba atomica che pare che nessuno abbia più. Poi arriva Fukushima e ci svegliamo tutti un po' più consapevoli, ma poi passa di nuovo e via. Voglio dire, ci sono delle cose apocalittiche, ma ci siamo talmente abituati a viverci in mezzo che non ce ne frega più niente, insomma. Io cerco nei miei libri di fare i conti con queste cose che prendiamo per normali e tanto normali non sono. E questo pensi che possa anche per i lettori che possano rendersi conto di questo nel momento in cui leggono e si avvicinano a questo tipo di visione? Beh, resta l'inquietudine. Resta la... un mio amico fotografo ha fatto un volume bellissimo sul Friuli. È un volume di fotografie stupende, ci sono i grappoli d'uva, i filari ordinati delle vigne, del coglio, eccetera. Sembra un paradiso. Mi ha chiesto di scrivere un pezzo e ho fatto un pezzo in cui descrivevo la violenza che c'era, cioè tutte le guerre, le scorrerie dei turchi, il fatto che sono 600 anni che ci ammazziamo l'uno con l'altro e non riusciamo ad andare d'accordo tra Udine e Pordenone. Beh, Gorizia non credo non abbiamo nessun problema finora, ma ci attrezzeremo anche per quello. E voglio dire, cercavo di far vedere come sotto la tranquillità, sotto l'idiglio, sotto il coso, ci sia nel passato un passato estremamente violento, estremamente duro e il futuro chi lo sa. Cerchiamo di fare in maniera che non sia così, anche per i nostri figli, però dei pericoli ci sono, insomma. Grazie, grazie Tullio. Alberto Garlini, cospirazione, tramanere, per scrivere questo romanzo hai lavorato moltissimo, hai lavorato moltissimo, hai fatto delle ricerche approfondite su un tema e su una stagione poco, nemmeno troppo esplorata, nemmeno dagli storici, direi. Ci sono veramente periodo nero sotto vari punti di vista, insomma, quindi materia anche molto delicata, molto difficile da trattare. Che cosa hai imparato soprattutto da questo viaggio? Perché poi scrivere è anche non è solo e porsi delle domande, ma è anche in qualche modo viaggiare in dimensioni che soprattutto in questo caso mi pare non siano le tue, cioè hai dovuto vestire, come dire, si porti la camicia nera adesso però non so se questo è rimasto da... Ma non ho la bomba. Non è la bomba. Ho rinnotato. Quindi, insomma, questa full immersion in questo capitolo di storia italiana ti ha insegnato qualcosa? Ma soprattutto anche per il futuro, non lo so, qualcosa che possiamo aspettarci. Ma sì, di cose me le insegnate parecchie e l'ho scritto proprio per quello perché prima di scrivere questo libro pensavo di fare una cosa completamente diversa che era scrivere un libro su Bruce Chatwin, quindi puoi immaginare e perché mi interessava la sua idea di nomadismo mi sembrava una cosa molto attuale molto legata alla realtà non so se avete letto Le vie dei canti questo libro bellissimo in cui ci sono questi aborigini che fanno questi lunghi viaggi a piedi cantando il paesaggio e quindi quando li portano in autobus cantano velocità doppia perché il paesaggio scorre più velocemente quindi il loro canto ha un ritmo accelerato e quindi mi sembrava che il nomadismo il fatto che noi viviamo comunque a livelli emozionali sempre molto diversi tra social network viaggi precarietà sul lavoro potesse essere una chiave poetica di lettura della realtà a un certo punto come fanno a volte i romanzieri ho detto voglio mettere in frizione questo punto di vista quello di Chatwin con un punto di vista completamente diverso e pensate il nomadismo e questo ripetendo anche quella distinzione fondamentale nell'antropologia che c'è fra nomadi e agricoltori quindi fra cacciatori e raccoglitori e stanziali agricoltori e allora immediatamente mi viene in mente e lo voglio mettere a confronto con una ideologia sanguessuolo una terra una razza la difesa della terra e della razza la parola sanguessuolo deriva da un pensatore tra virgolette nazista che si chiamava Walter Daré che era un tedesco e viveva a Buenos Aires e si è scritto questo libro folgorante che si trovava appunto sanguessuolo in cui diceva che in sostanza i popoli le razze vengono fortificate dal sangue degli avi che irora il seme quindi questo produce i frutti e uno il pronipote lo mangia e acquista attraverso il sangue dell'avo tutte le virtù del passato ovviamente è una teoria delirante cioè non è che serva molto per capire che un delirio è lo stato puro ma Himmler piacque moltissimo e divenne il ministro dell'agricoltura del Reich tanto per dire come ci siano delle follie e allora a un certo punto ho detto metto in confronto questo fascista con Cetune avevo pensato questo dialogo e ho cominciato a pensare cosa ne so di un fascista e la risposta è assolutamente nulla non sapevo niente proprio perché mi sembra che quella parte della nostra storia sia un po' rimossa non se ne sia parlato non è una storia tanto conosciuta comincio a studiare per farla breve da un libro su Cetune inventa un libro su questo fascista che è il personaggio principale ma perché ho fatto questa scelta perché mentre leggevo come diceva anche Tullio prima mentre studiavo e mentre stavo scrivendo questo libro leggevo delle notizie sconcertanti nel senso che se avete visto non so il caso di Breivik questo pazzo furioso che ammazza 76 ragazzi lavoristi perché dicevano che stavano contaminando il sangue europeo attraverso emissioni di razze strane o pensate al caso di Cassari che ammazza dei senegalesi poi si uccide un simpatizzante di Casa Pound o pensate alle varie profanazioni che ci sono state di cimiteri ebraici insomma tutto quello che vedete davanti ai vostri occhi ci accorgiamo come questo tipo di tempere questo tipo di cose non sia assolutamente finito anzi sia di preoccupante realtà e in questo mi ricollego proprio all'idea del cospirazionismo che è una delle idee che fa parte insomma anche di questo incontro credo che noi in Italia non so se avete seguito un'altra delle cose che sono successe in quest'ultimo periodo per esempio è stato il film di Marco Tullio Giordana sulla strage di Piazza Fontana non so se l'avete visto ecco quel film secondo me è molto interessante perché va a toccare veramente quello che è uno dei nodi scoperti della narrazione che noi italiani abbiamo di noi stessi in un certo senso noi italiani non possiamo dirci italiani se non abbiamo riflettuto su Piazza Fontana se non abbiamo in qualche modo tenuto dentro cos'è Piazza Fontana Piazza Fontana se ci pensate è una strage fatta in un momento molto particolare all'inizio della contestazione che non ha colpevoli questo ha creato se non abbiamo una verità giudiziale su una cosa che ci ha toccato nel vivo nella carne cioè una bomba che viene messa dei pistaggi di polizia eccetera eccetera e non abbiamo una verità giudiziale vuol dire che qualunque tipo di narrazione può proliferare noi ci sentiamo liberi di raccontare qualunque tipo di verità su quella strage e infatti io che ho letto moltissime cose sulla strage di Piazza Fontana mi sono accorto che ci sono mille verità completamente diverse l'una dall'altra e credo che questa idea questa mancanza di verità giudiziali di verità accertate su tutto un periodo della nostra storia pesi nel senso del cospirazionismo italiano è una forma di narrazione rimossa che noi ripetiamo costantemente non credo che sia un caso per esempio che in Francia non c'è stata Piazza Fontana e non c'è stato nemmeno terrorismo perché De Gaulle ha risolto la situazione molto molto prima in Italia invece abbiamo avuto Piazza Fontana abbiamo avuto un escalation di violenza un richiamo alla violenza c'è stato un contagio violento che è durato un decennio e ci siamo ritrovati col terrorismo nero rosso con le bombe con i depistaggi con i servizi segreti oltretutto lo schema narrativo cospirazionista di Piazza Fontana ha funzionato anche per tutte le stragi successive perché tutte le stragi che ci sono state dopo hanno ripetuto lo stesso schema narrativo tanto che uno dei responsabili di una strage che è venuta poco qua vicino cioè vicino Peteano Vinci Guerra dice lui ovviamente che si è ritrovato dentro questo tipo di narrazione senza volerlo lo salvavano ma senza che lui facesse nulla per essere salvato quindi c'è uno schema cospirativo narrativo che dura una decina d'anni ecco questo schema secondo me è piuttosto preoccupante e che fa sì che noi siamo veramente italiani tanto che secondo me tutta quella parabola si conclude come sempre succede con i contagi violenti con un sacrificio rituale che per me è stato Aldomoro cioè Aldomoro alla fine ha compattato le diverse fazioni italiane dal punto di vista emotivo e con quella morte di una vittima innocente ucciso in quel modo lì io ero bambino ma mi ricordo perfettamente l'immagine di questo corpo ritrovato magrissimo messo in posizione fetale dentro questa macchina rossa mi sembra un Reno 4 ecco e quell'immagine lì secondo me è ricompattato e allora si è creata la possibilità di una pacificazione e credo che appunto in Italia abbiamo più facilità a trovare trame cospirative proprio perché non abbiamo mai avuto la verità sulle stragi e questo crea una particolare difficoltà proprio noi stessi di rapportarci tanto che adesso per dire siamo in un periodo di crisi tutti gli italiani sono commissari tecnici e sanno più o meno quali sono le ragioni occulte della crisi non quelle vere quelle occulte e quindi ci sono le riunioni di banchieri e l'euro mille ragioni diverse tutte ovviamente false perché qui siamo in un momento di crisi epocale dove ci sono delle potenze economiche emergenti Cina Brasile India e Russia che ci stanno facendo a pezzi e quindi l'Europa dovrà ritornare ridimensionata tutto qua però la trama cospirativa è una trama fondamentale un'altra cosa e qui chiudo non è particolarmente interessante dal punto di vista di un narratore notare come per dire tutta una letteratura italiana cospirazionista nasce dopo Piazza Fontana cioè Shasha il contesto eccetera eccetera è dopo Piazza Fontana prima non abbiamo narrativa cospirazionista in Italia prima di Piazza Fontana dopo Piazza Fontana cominciano tutti questi contesti metafisici tutte queste strane cose di potere tutte queste particolari logiche che non questi gli arcana del potere di cui parlava Schmitt che in sostanza determinano la vera realtà la realtà che viviamo non è quella vera ma c'è un'altra realtà cospirativa ma secondo te questo arriva fino ai giorni nostri penso all'immagine di vista stamattina beh l'immagine di stamattina secondo me è un altro schema cioè per me rispecchia un altro schema è che è la preoccupante assenza di politica nell'epoca ad adesso cioè in sostanza mi sembra che siamo in un momento dal punto di vista della violenza del liberi tutti cioè la politica serve a tenere la violenza ok cioè non esiste stato che non abbia il monopolio della violenza questa è la base di qualunque tipo di discorso politico la cosa che stiamo vedendo adesso è che tutto quello che noi abbiamo pensato come politico la nostra idea stessa di politica sta crollando la nostra idea di politica quella che ci hanno insegnato era in sostanza la trasformazione alchemica della rabbia del senso di ingiustizia in un progetto di durata ok è sempre stato così la rabbia che è qualcosa di negativo viene trasformato dalla politica in qualcosa di positivo la rivoluzione francese per fare un esempio è stato fatto perché c'era una persona arrabbiata che sentiva ingiustizia verso di sé e che aveva pochissime risorse e voleva prenderne di più senza rabbia la società non cambia se uno ha la pancia piena non cambia la società serve la rabbia la politica è sempre servita a trasformare la rabbia in un progetto se pensate al comunismo cosa vi diceva stai male sei povero hai una vita veramente schifosa ma non spaccare la testa adesso al capitalista che ti sta affamando e sfruttando ma metti a frutto tutte le tue azioni con quelle della tua classe sociale e un domani e qui sta il trucco un domani ci sarà la rivoluzione la dittatura del proletariato la società perfetta il cristianesimo cosa ti diceva non spaccare adesso la testa all'aristocratico perché tu un domani sarai al regno dei cieli il capitalismo liberalismo classico cioè l'ideologia in cui siamo stati immersi fino ad adesso ti diceva più o meno è vero il tuo capo ufficio è uno stronzo infame ti fa mobbing ti sottostima ti fa lavorare il doppio degli altri con minori gratificazioni ti nega di fare il fine settimana al mare tutto quello che vuoi ma non spaccare la testa adesso ma metti a frutto tutte le tue capacità perché anche a te un domani sarà data l'opportunità di diventare ricco come lui o potente come lui l'America come paese dell'opportunità questa specie di miraggio è esattamente la trasformazione alchemica della rabbia io mi chiedo oggi adesso se uno è cassa integrato non sa come sformare i figli a che orizzonte politico ideale cos'è che fa trasformare la sua rabbia da adesso in un progetto politico futuro oggi cioè chi va a chiedere a Casini non so pensiamoci io credo che veramente la politica sia destituita in Italia non c'è nessuno più che pensa a che paese vogliamo fra cinque anni manca la profezia no manca proprio l'idea del futuro quello che è stato la base della politica fino a ieri pensare a un futuro adesso non c'è più è scomparso stiamo tappando debiti facendo così ma non c'è veramente nessuno che pensa cosa ci sarà e siamo una congiuntura in cui ci sarebbero tutti gli strumenti culturali per riuscire a fare un pensiero progettuale per il futuro ma non c'è e questo crea secondo me questi problemi il fatto che se non c'è più la possibilità di gestire la rabbia questa rabbia esplode in modo orizzontale colpendo cioè colpire una scuola è un tabù anche per un'organizzazione mafiosa non si fa cioè è proprio un tabù emotivo non si può toccare una scuola non si possono colpire ragazzi nemmeno un'organizzazione mafiosa lo fa se succede una roba di questo genere adesso che la matrice sia quella perché per adesso sono solamente voce ma se succede una cosa del genere vuol dire che veramente ci ho liberi tutti cioè la coscienza si è scollata da una possibilità di futuro e quindi quello che resta è solamente una rabbia assurda inorganica e senza prospettive pensiamo ai black bloc cosa fanno? mica pensano al futuro distruggono i simboli del potere le banche le mercedes quello che pensano si è un nemico e basta si prendono una vendetta qui adesso ma cosa pensano? non è certo un black bloc che andiamo a costruire il futuro ecco penso che questa idea di mob diffuso questa possibilità di una violenza che esplode in modo orizzontale nella società possa essere ahimè preoccupante scrivere un libro come questo serviva anche ad entrare in questa zona oscura personale privata e pubblica della storia per cercare di portare a coscienza il rimosso di provare a trovare dei rimedi grazie Tullio e tu che non ne pensi a proposito quindi è vero manca questa manca una visione io insisto perché se ne è parlato molto in molti incontri in questa edizione di Estoria proprio sulla dimensione profetica della politica anche la politica deve dare una visione deve dare una prospettiva e quindi in qualche maniera deve essere deve essere profetica tu la vedi la vedi così anche tu è giusta questa prospettiva e aggiungerei ancora un elemento di riflessione a proposito dell'Occidente Alberto parlava è stato detto anche in altri in altri incontri proprio questo questo problema dell'Europa questa è una crisi dell'Occidente una crisi dell'Europa che alla fine di questa crisi ne uscirà sicuramente ridimensionata sarà sicuramente un'altra cosa come la vedi e bisogna provare indignazione per questo secondo alcuni pensatori l'indignazione alla fine in realtà è troppo comoda come bisogna porsi di fronte a questo tramonto dell'Occidente beh la la cosa impressionante per me è stata che io avevo scelto di fare una tesi di laurea sull'Unione Europea e mentre la la completavo è uscito un documento dell'Unione Europea che definiva la futura Unione come un'unione di 300 milioni di consumatori e lì ho capito che il mio innamoramento per l'Europa era finito prima ancora di fare concorsi truccati perché dove uno dice l'Europa è un'enorme burocrazia che non ha creato nulla se non una moneta unica che sembra la moneta del monopoli cioè non ha credibilità non ha storia e siamo diventati effettivamente 300 milioni di consumatori solo che quando il consumo si riduce quando l'economia non traina più voglio vedere i 300 milioni di consumatori cosa diventano a quel punto se non c'è un progetto comune noi ci stiamo raccontando la favola del governo tecnico di persone competenti io ho avuto come capo Corrado Passera e quando ho saputo quando ero in autostrada mi sono fermato accostato ho tirato un bestemmione da scomunica da grattare un cretino del genere uso un termine anche generoso non può essere super ministro dell'economia dello sviluppo è un tagliatore di teste è uno che non saprebbe neanche trovare il bagno se non ha il consulente della bank che gli dice dov'è infatti lo si vede è un uomo che va a convegni farà 80 convegni al mese va a portare a spasso le figlie perché chi o perché ha o perché i vari giornali che sono sempre più monosillabici giustamente lo immortalino con i suoi rampolli questo è uno degli elementi io penso che siamo in questo momento governati da dei cretini senza un progetto che ci portano a spasso promettono un riforme promettono di tirarci fuori da quale baratro è un percorso ormai impicchiata e quindi credo che prima o poi salterà fuori qualcuno che avrà che sia Beppe Grillo fa un po' ridere insomma non so è come se mi disessero adesso che Faletti riformerà il PD voglio dire con tutta la simpatia che ho anche quando Faletti ha scritto un romanzo e non serve una cattività uno mi ha detto ragazzi è incredibile che Moccia sia diventato sindaco di un comune ma probabilmente una leggenda metropolitana come quella che è uno scrittore e allora avere Beppe Grillo che raggiunge il 15% di consenso a quanto pare non è del tutto balzano nel senso che è uno che bene o male alza la voce e fa finta di avere o crede veramente di avere un progetto un'idea prima citando Daray che è il ministro dell'agricoltura dei Reich e la sua concezione del sangue e del suolo mi è venuto in mente un collegamento un po' ardito ma visto che siamo in un convegno di storia lo facciamo il più bel libro che ho letto di storia secondo me è un libro sul discorso di Gettysburg scritto da un americano il discorso di Gettysburg è stato pronunciato da Lincoln mentre inaugurava il cimitero per i caduti della battaglia di Gettysburg era una battaglia avvenuta pochi mesi prima quindi il campo era ancora un disastro c'era ancora l'odore dei cadaveri l'odore del barciume che lascia una battaglia gli oratori che hanno parlato prima di lui hanno parlato per un'ora e mezza e due ore in secondo Lincoln ha fatto un discorso che non durava un minuto ha fatto un discorso che era un discorso di progettualità politica di capacità di indirizzare una nazione straordinaria ha fatto un discorso assolutamente fasullo nel senso che ha detto che quei morti non erano morti per una guerra che divideva erano morti per un progetto comune cioè ha reso quei morti confederati i morti unionisti i morti dell'America e ha indirizzato e quel discorso di un minuto ha dato la linea politica all'America del secolo successivo e tra l'altro altro paradosso della storia è stato citato da Goebbels nel discorso per commemorare i caduti di Stalingrado è una parafrasi del discorso di Gettysburg di Lincoln quindi per dire come le sceleratezze si possono fare anche con cose buonissime quel discorso è stato definito come il discorso più ispirato il discorso più misurato quello che ha cambiato la storia dell'oratorio americano la storia della politica americana ma anche il più falso nel senso che è stato è stato un appropriarsi di morti e di una guerra stravolgendo nel senso stravolgendo nel senso di funzione progettuale credo che qualcuno prima o poi che faccia questo lo troviamo e mi fa da un lato mi fa paura dall'altro credo che ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno che qualcuno ci dica che siamo un paese ancora forte con delle risorse giovani con delle risorse progettuali molto buone dobbiamo solo liberarci e qui devo dire in che modo lo faremo io la mia idea ce l'ho non la propagando perché farei apologia di reato dobbiamo liberarci di una casta di politici di manager che non sono in grado di tirarci fuori da questo dobbiamo trovare una nuova progettualità io sono molto ottimista però sono convinto che prima di arrivare al futuro dovremo passare per un bagno di sangue tutto qua ah niente cioè vuol dire proprio una eh vabbè cioè torniamo alla rivoluzione francese io voglio essere di nuovo un cittadino non voglio essere un consumatore e vedrete che quando ritorneremo a essere cittadini stringeremo la cinghia però scopriremo di essere delle persone migliori credo e questo lo dobbiamo i nostri figli ma lo dobbiamo anche noi stessi Alberto volevi no io su questa cosa cioè nel senso io credo che veramente il problema non sia dei politici cioè il problema è proprio della società italiana che io non sono d'accordo che è quello che manca è proprio creatività di base della società italiana adesso abbiamo un comodo spauracchio nei politici che abbiamo votato per anni e che per anni più o meno hanno dato privilegi un po' a tutti e quindi vabbè adesso non possono più darli e quindi è colpa dei politici che fanno è chiaro che hanno tutte le colpe io sarei il primo a tagliare qualunque però il problema generale che avverto io è proprio una creatività politica di base ma è un problema culturale è un problema caratteriale per anni per anni si sono stati attaccati a diritti privilegi cose di un tenore di vita che non possiamo permetterci più e abbiamo praticamente mollato ogni diritto di cittadinanza appunto per diventare consumatori questo è proprio veramente a livello brutale ma al di là di tutto questo che mi interessa anche relativamente le cause per cui noi adesso siamo qui in questa situazione quello che proprio manca è creatività politica di base cioè persone che pensano al loro futuro e che vogliono costruirlo e che pensano di essere cittadini questo manca proprio ma nella coscienza comune ognuno cerca il proprio piccolo vantaggio il proprio piccolo coso il proprio piccolo diritto è tutto così ma la domanda infatti che volevo fare per tutti e due la politica sarebbe tutto da tagliare sono d'accordo su tutto ma sarebbe troppo facile non è che adesso mandiamo a casa questi qua e verrà una classe politica migliore perché non c'è la domanda era c'è ancora si parlava appunto di mondo distopico quindi di come non vorremmo che fosse il futuro ma invece ci può essere spazio per l'utopia per la cara vecchia utopia quella proprio l'utopia io ho questa idea qua che l'utopia e la distopia siano identiche nel senso che c'è questo bellissimo saggio scritto da Bazco che è uno studioso polacco che ha scritto un bellissimo saggio pubblicato da Inaudi sull'utopia ecco l'utopia nasce con caratteri distopici l'utopia è una società chiusa una società utopica quindi tra l'isola felice la città del sole e Saad la differenza è pochissima sono luoghi isolati dal punto di vista strutturale sono identici luoghi isolati stabiliti una volta per sempre nessuna possibilità di miglioramento fermi immobili a me questa immobilità ovviamente fa paura poi ci può essere un'utopia come ideale come possibilità futura come idea futura però non è tanto un'utopia ma è qualcosa che noi tendiamo a costruire ecco detto tutto questo credo che appunto il problema grosso adesso sia proprio della creatività di tutti noi che dovremmo metterci un po' più in discussione pensare rischiare di più e immaginare nel senso io non penso che in Cina ci siano problemi e lì costruiscono lavorano fanno eccetera è come l'Italia degli anni 50-60 si costruiva si faceva si andava non è che si stava tanto ecco questo tipo di situazione non c'è più e tutti sono più o meno lì che cercano di e questo tra l'altro in un momento di crisi del lavoro che rende ancora tutto più complicato quindi se non ci mettiamo noi in prima persona a lavorare pensare non ci sarà nessun politico nessuno che salta fuori che ci indicherà la strada cioè il politico comunque tra l'altro secondo me l'idea anche di politica mediatica che c'è stata fino ad oggi dei salotti televisivi di quello che va e che comunica non esiste più la politica ormai è orizzontale cioè è fatta da tutti non esiste copyright sono idee che si spargono in modo virale orizzontalmente costruiscono delle possibilità emotive di un futuro e questo bisognerebbe fare però non lo fa nessuno Tullio sei d'accordo su questa su questa proliferazione tipo virus delle idee che nessuno poi riesce in qualche maniera ci sono le possibilità tecniche ma non ci sono le idee è quel problema ma io ho cominciato a scrivere un nuovo romanzo adesso che purtroppo sono stato fregato dal trota che mi ha castrato un romanzo che ovviamente è di scrivere tra le tante conseguenze della laurea di Tirana c'è anche quella è un romanzo basato su una mia idea magari ottimistica di un gruppo di amici sui 40 anni che si trovano e decidono di fondare un partito politico una cosa che è già successa nel senso che non hanno televisioni non hanno media eccetera però hanno la capacità mi è venuta l'idea vedendo i miei followers quelli che mi seguono su Twitter che è un social network eccetera è quello con cui vi mandate quei messaggini i 144 caratteri con cui si commenta un libro una cosa si fa una battuta e ho visto che lavori interessanti fanno è gente che ha una capacità impreditoriale una capacità anche progettuale una vivacità anche nel fare le battute una prontezza di riflessi mi sono immaginato se queste persone che molto probabilmente nella vita devono reggere la coda del ministro Corrado Passera o di qualcuno simile a lui del signor innominabile presidente della Fiat quello con i maglioncini e la barbetta degli Elkandi questi signori che ci dominano così per ignavia nostra probabilmente questi hanno delle persone dietro di loro che lavorano per loro che li mantengono quelli che gli fanno il planning quelli che gli fanno i discorsi quelli che sono di confezione pensiamo a se questi si ribellano cioè la parte la parte che sgoba per conto di questi tecnocrati si ribella e decide di mettere in piedi un partito loro quindi riescono a manipolare l'opinione pubblica riescono cioè usano le armi dell'avversario le armi usate da Berlusconi le armi usate dalla televisione eccetera per un progetto loro e quale progetto? beh ad esempio io avrei delle cose da indicare e le prendo da mio figlio mio figlio ha 16 anni ed è un fanatico delle tecnologie ma non delle tecnologie dei telefonini di internet eccetera ma di cose semplicissime tipo le tecnologie per la produzione di energia noi abbiamo abbandonato negli anni 80 l'idea della fusione della fusione nucleare come se fosse un'idiozia abbiamo castrato un ramo evolutivo in base al quale avremmo potuto essere da tutt'altra parte ora molto probabilmente però chi i tecnici della fusione nucleare non sono rimasti disoccupati come Galileo quando è stato zittito dalla chiesa hanno trovato lavoro presso multinazionali che si occupano di energia e poi c'è il cosiddetto postumanesimo quindi l'idea delle nanotecnologie ci sono un sacco di tecnologie nuove che usate da una società che non mira al profitto o che ha una lungimiranza ha una progettualità a lungo termine potrebbero cambiare il nostro modo di vivere e qui si aprono io sono un utopista un ottimista nel senso che credo che prima o poi non possiamo fare la fine dei topi che chiudono in una gabbia che finiscono per divorarsi tra di loro ma possono trovare una scappatoia ci vuole il genio ci vuole la l'alzata alzare la testa e cominciare a camminare di nuovo credo che abbiamo io so che la politica è morta e che non c'è una progettualità non c'è una spinta sociale verso il miglioramento però prima o poi sono convinto che salterà fuori e abbiamo tutti i mezzi credo per creare un progetto alternativo al progetto cinese al progetto russo che è predatorio e non porta c'è quel non so se avete visto quella macchia quell'isola galleggiante di rifiuti che l'isola di plastica sì l'isola di plastica ma soprattutto c'è quella nube tossica che di cui si sente parlare poi non si sente più parlare che gira ed è prodotta da questo modello di sviluppo che io non tollero io sono convinto ecco io più che amo la storia leggo molti libri di storia e ogni tanto mi piace immaginare il cosiddetto universo parallelo cioè cosa sarebbe successo se ad esempio secondo me la decisione di MacArthur di bombardare Pechino durante la guerra di Corea era una decisione lungimirante mi dispiace non l'abbiano presa Truman l'ha licenziato una volta ha detto il mio vicino che era un pilota dell'aeronautica americana ha detto voi dovevate bombardare la Cina negli anni 50 ha detto oh my god no no non avreste vivremo probabilmente in un mondo migliore chi lo sa credo che la storia ci riservi delle sorprese delle vie d'uscita che noi non siamo in grado di chi avrebbe immaginato certe cose che sono successe anni fa nessuno volendo essere logici e razionali dovremmo dire no siamo condannati a questo siamo condannati a essere ancora consumatori eccetera però credo che verrà che la soluzione arriverà e probabilmente arriverà dalla generazione di quelli che hanno l'età di mio figlio forse di quella intermedia non dalla mia perché siamo ormai in bolse e pasciuti e pieni di paure volevo leggere una chiedervi un commento su una citare una frase di Primo Levi nell'appendice a se questo è un uomo lui scrive a proposito tornando un po' al tema al tema di questo festival quello dei profeti scrive Primo Levi dice poiché è difficile distinguere i profeti veri dai falsi è bene avere in sospetto tutti i profeti è meglio rinunciare alle verità rivelate anche se ci esaltano per la loro semplicità e il loro splendore anche se le troviamo comode perché si acquistano gratis è meglio accontentarsi di altre verità più modeste e meno entusiasmanti quelle che si conquistano faticosamente poco a poco e senza scorciatoie con lo studio la discussione il ragionamento e che possono essere verificate e dimostrate Alberto secondo te questo atteggiamento ci può portare a essere più liberi e questa forse è la strada quindi non credere alle verità rivelate ma piuttosto accontentarsi delle piccole verità e cercare di costruire giorno per giorno qualcosa io credo che sia l'unica cosa che si può fare realmente sia questa non esistono verità rivelate si sa io penso che oggi non ci sia una sola persona che può profetizzare il futuro nessuno sa quello che sta succedendo realmente ritornando però al discorso di prima sulle speranze c'è questo detto che l'italiano si vede nel momento di crisi nel momento di estrema si vede che l'italiano riesce ad averlo scatto questa è la capacità secondo me adesso sta cominciando a scavare è il momento allora non è che scatta avanti ma scava per andare un po' più sotto questa è la mia sensazione spero come dire di sbagliarmi io francamente purtroppo non ho nessuna segnale presagio positivo da questo punto di vista io veramente spero di sbagliare però io vedo una fiacchezza proprio una fiacchezza incredibile proprio ma dove anche proprio l'idea di vitalità proprio quella base ho letto di recente ho scritto una prefazione su storie di lavoratori pordenonesi dagli anni 30 agli anni 50 cioè resti basito è gente è gente che partiva mi hanno detto che al Cairo si lavora prende una nave va al Cairo a lavorare poi così era gente così c'è gente che ci siamo persino dimenticati chi erano che tempo che vita che energia avevano e come la vita fosse una cosa da conquistarsi ogni giorno non un diritto dovuto da riscuotere ecco e questo credo che sia un problema poi ecco rispetto a tutto il resto l'unica cosa che io mi sento di dire rispetto al futuro e che ho capito scrivendo questo libro è la necessità di eliminare qualunque sarà il futuro possibile io lo vedo di conflittualità di eliminare lo spirito di rappresaglia che ognuno ha dentro di sé questa è l'unica cosa il mio personaggio vive dello spirito di rappresaglia e io una volta avevo visto mentre studiavo per fare questo libro una puntata di un giorno in pretura dove c'era Valerio Fioravanti sapete Valerio Fioravanti è questo terrorista nero che ha ammazzato molte persone in più è stato condannato in Cassazione per la strage di Bologna a un certo punto il giudice gli chiede ma Fioravanti ma perché avete fatto tutto sto casino a Roma morti ammazzati stragi inseguimenti in macchina e lui risponde in questo modo guardi prima a Roma prima che io entrassi nella piazza di Roma si usava questo sistema i rossi i comunisti ci facevano un torto e noi rispondevamo da quando sono entrato io abbiamo cominciato a rispondere un po' di più un po' di più ecco secondo me la chiave sta tutta lì ma troppo pensè ovviamente Fioravanti però la chiave sta tutta lì noi abbiamo e abbiamo la sensazione costantemente di ricevere delle ingiustizie dei torti più o meno immaginari ai quali tendiamo a rispondere un po' di più quando tu rispondi un po' di più l'altro ti risponde un po' di più l'altro ti risponde un po' di più l'altro ti risponde un po' di più e i vicini di casa si uccidono e un ambiente come una classe della scuola un ufficio diventa invivibile perché non puoi parlare con quello perché non puoi fare una cosa con quell'altro e così via ecco questo spirito di rappresaglia che esiste a tutti i livelli nel mio personaggio a livelli altissimi perché lui può mettere le bombe e uccide veramente ma esiste in tutti gli ambienti ecco lo dobbiamo togliere anch'io con me stesso è questa qua appena sentiamo il bisogno di rivarsi appena sentiamo il bisogno di rispondere un po' di più dobbiamo annichilirlo perché non possiamo venire a patti e questo bisogno antropologico di rappresaglia fa parte di noi lo sappiamo e dobbiamo toglierlo escluderlo eliminarlo non si può venire a patti quindi per il futuro mi auguro solamente questo che riusciamo a rompere con questo meccanismo antropologico che purtroppo crea molti danni e crea molte difficoltà mi sembra un'ottima come dire regola regola per il futuro tu un'ultima domanda così al volo quali sono i falsi profeti oggi? oh mio dio diciamo che credo che tutti quelli che scrivono saggi con i quali cercano di indirizzare il futuro di spiegare di spiegare tutti quelli che ci dicono che c'è una logica negli eventi eccetera credo che la storia ci insegni che non ci sono grossi insegnamenti da trarre o comunque che ogni insegnamento può portare a cose peggiori può essere utilizzato a me viene sempre in mente la battaglia di Kosovo-Poglie evocata da Milosevic per causare la guerra per incitare il Serbio a una nuova guerra contro i polacchi quindi una battaglia del 1389 mi pare rievocata per essere utilizzata lì probabilmente dal punto di vista ha avuto delle pezze d'appoggio ha avuto degli storici dei soggetti che lavoravano per lui che l'hanno documentato che gli hanno preparato le basi del discorso queste sono le persone di cui ho paura cioè i tecnocrati che usano la storia l'informazione l'attualità eccetera per fini loro profetti non ne vedo ci sono profetti in giro non credo c'è chi cerca tutte le grandi profezie da Ludwig a Fukuyama sono tutte state smentite ha ragione Alberto nel senso che ci sono talmente tante variabili talmente tante dinamiche che non è possibile prevedere l'ultimo che ha scritto un libro cercando di prevedere il futuro in narrativa credo era Isaac Asimov ma è un libro che adesso neanche i ragazzini cioè quella psicostoria che permetteva di no io credo che non so chi siano i profeti e comunque non mi interessano mi fanno sempre un po' paura però posso indicare alcuni scrittori faccio un nome di uno scrittore adesso ho dimenticato perché purtroppo è stato citato sul tempo di D'Agostino che è Milan Kundera secondo me Milan Kundera ha descritto l'Europa d'oggi in romanzi usciti negli anni 70 e 80 dove sfuggito dalle grinfie del regime cecoslovacco quindi un regime satellite con tutti i difetti che può avere quindi è approdato nella libera Europa e ha descritto credo alcuni romanzi brillantemente quello che era il futuro dell'Europa quando descrive una spiaggia occidentale con queste persone grasse stravaccate che si ungono di olio eccetera beh devo dire che quella volta mi sembrava una cosa paradossale però c'era l'occhio dell'esterno l'occhio di un narratore che veniva da una realtà diversa che fotografava quello che era il nostro futuro un futuro grasso un futuro di facocere addormentate a sole che ignorano completamente cosa succede e questo mi ha colpito credo che anche adesso c'è Michelle Welbeck un altro narratore ci sono dei soggetti che non pretendendo di scrivere profezie in realtà ci illuminano su quello che potrebbe essere il nostro futuro la mia speranza personale è che il profeta migliore sia stato Kurt Vonnegut che in Galapagos un romanzo fulminante ha immaginato il futuro dell'umanità il futuro utopico dell'umanità così noi ci evolviamo dimentichiamo tutto dimentichiamo l'uso degli arti ci diventano delle pinne e stiamo immersi nell'acqua tutto il giorno ad accoppiarci a mangiare sardine a farci mangiare dagli squali e secondo me io farei firma per un'evoluzione di questo tipo chi l'ha detto che dobbiamo continuare dobbiamo andare a massacrare il pianeta o addirittura espanderci su altri pianeti per portare cosa c'è non ha senso per me l'utopia migliore è quella cioè io spero che noi perdiamo l'uso del sì non ognuno di noi individualmente perché è una sfiga ma voglio dire come RAT ci evolviamo nei pinnipedi privi completamente di senso della storia di senso della cultura e di senso di proprietà quindi spero che l'acqua sia calda ma ci adattiamo almeno ai tropici perché è il freddo con l'acqua intorno mi spiacerebbe abbiamo un minuto per se qualcuno del pubblico vuole fare qualche domanda vuole chiedere qualcosa io avrei una domanda da fare Tuglia Voledo per il semplice fatto che ho letto quasi tutti i suoi libri alcuni dei quali sono molto diciamo complessi a livello di narrazione di incastro di personaggi di vicende e hanno una geometria insomma molto ben studiata ecco quanto ha influito l'uso del computer e il fatto di poter tornare avanti e indietro di cambiare di spostare copiare incollare controllare cioè di far combaciare tutti i pezzi come pensa che sarebbero stati alcuni romanzi come l'anno dei dodici inverni per esempio se li avessi dovuti scrivere completamente a mano senza poter usare il computer se li avessi scritti un secolo fa per esempio domanda tecnica proprio da bottega sì l'altro giorno ho scritto un articolo quindi mi sono documentato l'ho scritto l'ho spedito in redazione e tutto usando un cellulare allora non è che cambi molto per lo scrittore perché molto probabilmente si possono scrivere anche su dei fogli a mano c'è Mauro Corona che dice che scrive su fogli a mano che poi la moglie scrive a macchina che poi gli editor e non si capisce come fa a scrivere tre all'anno perché con un metodo del genere io ne scriverei uno in trent'anni penso il computer dà la possibilità di cambiare i nomi dei protagonisti se voglio che Giulio si chiami Roberto vado lì e lo sistemo una volta io ho cominciato a fare giornalista quando ancora si doveva usare una griglia non so se forse tu sei adesso è elettronica ma la griglia c'è sempre mamma mia dovevo mettere dentro nella macchina da scrivere dovevo battere lì dovevo stare attento poi con il bianchetto correggere adesso in realtà faccio tutto nel giro di pochi secondi cioè lo fa per me è una grande libertà è una grande poi non so ad esempio mi ricordo ancora il Giulio Verne o Jules Verne diceva che il più grande regalo che gli avessero fatto era un orario dei treni degli Stati Uniti e ci ho riflettuto ma è chiaro perché poteva dire che il treno partiva da Chicago arrivava a Los Angeles in quel era per un narratore era un elemento in più di credibilità adesso io non solo posso descrivere cioè se io voglio descrivere una via di Brest dove sono stato anni fa ma chissà come adesso scendo con Google cioè apro tengo sul mio computer da un lato il testo e dall'altro apro la via e vedo che negozi ci sono anzi riesco ad avere un tale livello di penetrazione nell'informazione che posso vedere se c'è della merce in saldo se c'è e se vedo quel negozio posso entrare e vedere chi è il proprietario io ho descritto un albergo di Parigi senza esserci mai entrato un mio amico ci è andato e ha detto è uguale ma non è difficile perché hai la possibilità di entrarci attraverso le immagini attraverso i deppliant attraverso posso sapere come si chiama il cuoco che tipo di menu avrà quel ed è fantastico per descrivere una scena sul Titanic ad esempio non avrei potuto farla senza la tecnologia di ora che mi ha concesso un viaggio virtuale cioè sono entrato nel Titanic ho visto più o meno quanti passi ci volevano per un certo corridoio dove c'era una cabina sapevo come era vestito un certo personaggio anche se c'è un mistero c'è un orologio di John Jacob Pastor che meriterebbe un racconto da solo perché è un orologio che sparisce nel naufragio poi riappare nelle mani di un erede non si sa come mai non è detto che non ci dedichi e la tecnologia è fantastica ci aiuta moltissimo da quel punto di vista e credo che aumenti anche la rapidità nel senso che adesso sono capaci di lavorare voglio vedere chi si portava dietro una volta la vecchia lettera 32 e la priva magari in un treno una sala d'attesa eccetera adesso si aprono quei meravigliosi aggegini giapponesi o coreani e si è operativi subito è una grande una grande cosa insomma quindi purtroppo per voi scrivo molto anche perché ho la tecnologia che mi qualche altra domanda c'è ancora qualcuno prego ancora un minuto perché abbiamo se ne è parlato abbastanza forse lui era la persona meno adatta a cui chiederlo un governo di tecnici espressi da un'università che laura la Sara Tommasi è un governo su cui bisogna riflettere insomma io sono stato parlato alla cattolica sono stato alla Bocconi ma non ho visto delle è un po' come quando Allen Ginsberg scriveva ho visto le migliori menti della mia generazione eccetera e Carl Vonnegut sempre per citare un profeta che mi manca ha detto se io avessi dovuto cercare le migliori menti delle mie generazioni non andavo a cercare tre fuori corso dei corsi di lettera andavo a cercare al Caltech al MIT cioè mentre progettavano lo sbarco sulla luna eccetera e anche qua io non sarei andato a cercare un governo tecnico alla Bocconi o alla Lui lo cercavo probabilmente tra io ad esempio Gianola Nonino ministro dello sviluppo l'avrei vista perché è una donna che ha una capacità progettuale e manageriale indiscussa che Corrado Pass era tagliatore di teste distruttore di valore eccetera sia un buon ministro dello sviluppo mi viene da ridere è come fare non so Nerone ministro dell'infanzia cioè non Nerone Erode Nerone lo mettiamo agli spettacoli cioè l'organizzatore Alberto a me sembra che il governo Monti sia proprio esattamente fotografi la situazione politica che viviamo proprio esattamente nel senso che è un governo dove si fa si tappano i buchi si sa che c'è un problema economico serissimo che abbiamo dei debiti da pagare un debito pubblico che non è nostro a differenza di quello giapponese quindi e lui fa esattamente quello però se tu guardi Monti l'unica cosa che non vedi è futuro vedi una discreta rispetto poi vuol dire ai governi precedenti abbiamo credo siamo arrivati a un punto nell'ultima fase di fine impero che abbiamo visto di tutto cioè in anni le ballerine che si diceva negli anni 80 fossero arrivati con i socialisti con Berlusconi sono veramente arrivati ma è una cosa impressionante però ecco lui cosa fa buona discreta amministrazione dell'esistente senza nessuna capacità progettuale per il futuro cioè quello che manca in Monti vedo uno che mette le pezze che sistema un po' le robe e quindi non sono neanche contrario alla fine ma non vedo nessuna ipotesi di futuro è quello che ci meritiamo esattamente quello che ci meritiamo bene con questa visione non visione profetica ringraziamo Tuglio Voleteo e Alberto Carlini vi invitiamo a restare per il prossimo appuntamento grazie